La mia colazione è abbondante, allora penso che faccio latte e cereali, yogurt e cereali, perché c'è un giusto mix, però faccio sia latte che yogurt e faccio di solito un toast, potrei fare due uova strapazzate e un po' di pane marmellata e se ho ancora fame dei biscotti. È tanta roba, però ci metterò una mezz'oretta a mangiare tutto, però questa è la mia colazione.